Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul nostro canale YouTube. Oggi risponderemo a una domanda un po' particolare, e cioè la domanda che ultimamente ci fate un po' tutti in questo periodo. Ma io che non ho gli agganci ISOFIX in macchina, come faccio ad acquistare un seggiolino con la nuova normativa? Come sempre però, prima di rispondere a questa domanda, vi ricordo se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella delle notifiche per ricevere un piccolo avviso ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e che mettiamo a vostra disposizione un codice sconto per l'acquisto dei prodotti che vi mostriamo e che trovate come sempre tutti disponibili sul nostro shop online www.casababy.it Ultimamente, in tantissimi, venite in negozio oppure ci telefonate dicendoci che avete un'auto oppure i nonni del bambino hanno un'auto che non ha gli agganci ISOFIX e quindi non sapete che seggiolino acquistare, perché come ben sapete dal 1 settembre è stata introdotta la nuova normativa per quanto riguarda i seggiolini auto che appunto dal 1 settembre dovranno essere omologati secondo la normativa ECE R129 in quanto è decaduta invece la normativa ECE R44 tanti di voi sono appunto preoccupati perché non so come mai nel loro immaginario il seggiolino omologato secondo la nuova normativa ECE R129 è solo ISOFIX ma non è così esistono infatti in commercio dei seggiolini omologati secondo la nuova normativa che non si fissano con gli agganci ISOFIX ma si fissano semplicemente con la cintura di sicurezza 3 punti della vostra macchina proprio perché chi produce i seggiolini sa bene che sul mercato ci sono ancora genitori o nonni che hanno macchine che non sono dotate di agganci ISOFIX quindi è giusto che anche loro abbiano a disposizione un seggiolino da poter utilizzare che sia omologato secondo la nuova normativa e che sia comunque sicuro ovviamente anche per quanto riguarda i seggiolini che si fissano in auto con la cintura di sicurezza abbiamo diverse fasce di utilizzo abbiamo infatti seggiolini che si fissano con la cintura di sicurezza nella fascia da 40 a 150 cm e seggiolini che si installano con la cintura di sicurezza anche nella fascia da 76 a 150 cm in questo video vi facciamo vedere un seggiolino di esempio per tutti che fra l'altro è quello che vendiamo di più in assoluto ed è un seggiolino che fa da 40 a 150 cm quindi un seggiolino che si può utilizzare dalla nascita fino a quando vi è l'obbligo del seggiolino auto ovviamente in questo caso essendo un seggiolino che si fissa con la cintura di sicurezza potrete andarlo a fissare nel senso contrario al senso di marcia appunto fino ai 105 cm dopodiché lo andrete a sganciare e lo posizionerete invece nel senso di marcia troverete poi anche tutte le istruzioni per il fissaggio con la cintura di sicurezza che comunque è sempre molto semplice vi faccio vedere anche il tipo di reclinazione che ha un seggiolino di questo tipo quindi un seggiolino che va bene dalla nascita fino ai 150 cm e guardate la posizione nanna che si ha praticamente si può utilizzare fin dalla nascita ed è stupenda oltretutto all'interno come vedete avete anche tutti i riduttori sia nella parte della testa che nella parte del busto guardate che spessore e anche ovviamente nella parte delle gambine il riduttore potrà poi essere rimosso a partire dai 75 cm del vostro bambino vedete che è anche segnato direttamente sul riduttore quindi non vi potete sbagliare le cinturine interne sono le classiche cinture a tre punti con spallacce e spartigambe imbottiti che ovviamente sono regolabili per seguire la crescita del vostro bambino anche il poggiatessa si potrà andare a regolare in altezza proprio per adattarsi sempre all'altezza del vostro bambino mi raccomando quando andate ad acquistare un nuovo seggiolino fate sempre attenzione a quello che vi viene dato perché purtroppo abbiamo scoperto che alcuni vendono ancora seggiolini con la vecchia omologazione quindi fate attenzione che sul vostro seggiolino ci siano etichette come questa quindi con l'omologazione e i size del vostro seggiolino ma soprattutto che abbiano questa etichetta arancione indicata la nuova normativa ECR 129 mi raccomando fate sempre attenzione a quello che comprate sul lato del seggiolino come vi dicevo trovate anche tutte le indicazioni per andare a fissare il vostro seggiolino tramite la cintura di sicurezza e un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che essendo un seggiolino che si fissa con la cintura di sicurezza lo potrete andare a fissare ovunque vogliate all'interno della vostra auto perché come ben sapete chi ha gli agganci Isofix ha praticamente l'obbligo di mettere il sedile solamente sui sedili posteriori perché il sedile anteriore non ha l'aggancio Isofix in questo caso dovendo appunto fissare il seggiolino con la cintura di sicurezza potreste anche andarlo a fissare sul sedile anteriore sempre vi ricordo andando a disattivare gli airbag poi come sempre come vi diciamo in tutti i video il posto più sicuro per il vostro bambino è il sedile posteriore però per legge volendo potreste metterlo anche sul sedile anteriore et voilà spero con questo video di aver risposto alla vostra domanda in merito a quale seggiolino acquistare se non avete gli agganci Isofix in macchina mi raccomando se avete dei dubbi fateci le vostre domande nei commenti noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti e niente direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo ciao